ciao a tutti ragazzi benvenuti sul canale Zabelloni03 ragazzi oggi siamo qui su un video che riguarda sempre il calcio dove vi faccio vedere ragazzi quello che mi hanno dato ieri proprio quando ho finito gli allenamenti del calcio alla Romulia quindi al campo Roma della Romulia a Roma ovviamente allora mi hanno dato un kit io lo chiamo kit ragazzi ma si intende la divisa ok che mi hanno dato ok allora innanzitutto cominciamo da dire che è questa qua innanzitutto c'è questa come potete vedere sì se lo riesco a farvela vedere beh eccola qua vedete lo stemma dello si dello youtuber stavo dicendo vabbè lo stemma della Romulia eccolo qui eccola qui poi dentro a questo ci sono voi potete trovare queste ragazzi aspettate che mi distolgo un paio di calze poi potete trovare anche dentro proprio questa sacca potete trovare anche un keyway comprende anche un keyway che sarebbe questo qui ragazzi aspettate che lo apro non sono ancora a stare lavare ragazzi ma queste considerate che vanno lavate eccola qua poi ci abbiamo anche la maglia noi pantalone eccolo qui questo è il pantaloncino della divisa del calcio eccola qui e poi ci abbiamo anche la maglia ecco il numero no è senza numero ragazzi perché quelle col numero sono quelle ufficiali che danno solo lì poi le dovete restituire quando fate le partite ufficiali a loro e ve ne ritornate la maglia in questione è questa qua come state vedendo è questa qui dietro vi faccio ve lo faccio notare la maglia com'è non ha mezzo numero e poi comprenderebbe anche la felpa ma la felpa alla romulia non gli sono arrivati quindi gli arriveranno questo era quello che vi volevo far vedere cosa mi hanno regalato ieri poi in un altro video vi farò vedere cosa che cosa vi dirò che cosa mi avrò fatto ieri cosa ho fatto ieri di azioni e così via ma oggi in questo video non lo voglio dire ragazzi non voglio sentire troppo il video il video è concluso qua però meglio questo video direi che se vi è piaciuta sta sacca con il logo del campo roma della romulia con il disegno che si trova al di sotto della dello stemma quindi dell'ovo e tutto quello che c'è c'è stato dentro alla sacca e voi mettermi un pollicione in su mi raccomando ragazzi iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessun altro aggiornamento quindi seguitemi sempre su instagram ma soprattutto su youtube per essere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao